Bentornati a Radio Design, oggi sono Nicola Polumbo, docente qui di web marketing all'Istituto Italiano di Design. Oggi siamo con Sanni Mezzasoma. Ciao Sanni. Allora Sanni, presentati un attimo, chi sei? Sono un 48enne olmetano, cioè sono nato in una piccola frazione del comune di Marciano che ha studiato per lunghi anni, lunga permanenza alla Facoltà di Fisica di Perugia e oggi fa il muratore. Questa è la sintesi. Un percorso vero, verace. La sintesi, sì. Allora tu con altri, immagino anche architetti, così mi ricordo, avete realizzato un progetto che si chiama Terrepaglia. Terrepaglia. Diciamo che l'incubatore, se direbbe con le parole attuali, è stato il Centro Pantarei, che è un centro di educazione ambientale nato 17-18 anni fa a Passignano sul Trasimeno. Lì sperimentammo delle forme molto avanzate di biodilizia a fini non tanto architettonici ma educativi, cioè volevamo quell'edilizia che ci consentisse poi assieme ai ragazzi e ai adulti che venivano al centro Pantarei di costruire assieme a loro il centro Pantarei e quindi scoprimmo i materiali naturali all'epoca. Ho diretto Pantarei fino al 2013. Poi da un progetto educativo ci chiedevano ma se io volessi veramente costruirmi una casa con questi materiali. Ci sono i progettisti, ci sono le maestranze che riescono a costruirla? E da lì quindi abbiamo staccato nel 2015 una impresa edile vera e propria che è un impresa edile che ha competenze appunto diverse perché ne fanno parte, non è la classica bottega in cui gli apprendisti muratori sono venuti fuori perché hanno lavorato col maestro. Veniamo da altre esperienze e ci siamo riconvertiti a muratori nella via, insomma dopo la metà come diceva Dante nella nostra esistenza abbiamo scelto una strada tortuosa anche noi. Esatto perché Terrapaia si occupa proprio di realizzare case sostenibili al 100% possiamo dirlo. L'idea è quella, l'idea è quella con atteggiamento laico nel senso che si può lavorare anche sulla riduzione del danno, non è che improvvisamente la coerenza estrema per cui aboliamo completamente il cemento nelle nostre case. È possibile ma è possibile anche lavorare per gradi, cioè se io già nella mia casa sostituisco nel momento della costruzione di un intonaco cementizio, un intonaco fatto di terra cruda, già ho notevolmente inciso sui processi energetici e sulla salubrità degli spazi della mia casa. Questo è il nostro parere ovviamente, notevolmente inciso sarebbe da vagliare con una commissione di esperti ma l'idea è quella, quindi tu puoi partire da piccoli interventi o anche realizzare interamente la casa naturale, diciamo. E con quale materiale appunto si può realizzare una casa naturale? In Italia la storia, la geomorfologia, le questioni dei terremoti hanno sostanzialmente impedito che si sviluppasse una tecnica che si chiama con le balle di palia che costruisce case portanti. Noi abbiamo comunque bisogno di una struttura che sia di legno, che sia di ferro, che sia di cemento, quindi in qualche modo la struttura ci vuole, la coerenza sostenibile vorrebbe un'analisi dei materiali, la provenienza, quindi non è detto che il legno sia necessariamente migliore, andrebbe ragionato dove viene, dove è smaltito, però generalmente il legno viene, cioè è accettato come materiale maggiormente sostenibile e quindi più coerente rispetto all'intervento della paia, perché da noi non è possibile farsi le case solo con la paia portanti. Spieghiamo cosa vuol dire portanti, perché... Diciamo che i muri, è una bella domanda, quando facevo l'educatore era una delle domande che facevo ai bambini. No, me lo stavo chiedendo proprio ora, cosa vuol dire portanti. Una delle domande che facevo ai bambini, quando abitate una casa, secondo voi c'è differenza fra le varie pareti, la differenza è determinata dalla funzione, la facevo un po' più semplice insomma, però l'idea era quella, qual è la funzione che svolge una parete all'interno della casa o la parete perimetrale? E già lì cominciavano a distinguere differenze fra la divisione degli spazi interni e la separazione dell'edificio fra l'interno e l'esterno, qualcuno diceva forse i muri reggono anche il tetto. L'idea è appunto che i muri che reggono il tetto siano i muri portanti, quindi diciamo tutto il perimetro normalmente e magari una muratura centrale della casa fatta in balle di paia portanti, da noi non è possibile, da noi questo non è possibile. Perché si ritiene che non possono reggere quel carico? Più che altro non si è sviluppata questo tipo di tecnologia, io penso, questa è la mia idea, anche dovuta appunto al fatto che i terremoti comunque ti orientano, ci hanno orientato verso strutture rigide e non flessive. E quindi nel tempo tutto quello che è stato fatto è sbagliato, normalmente tu arrivi a una certa, dopo secoli arrivi a una certa sintesi, qualcosa di buono in quella sintesi, cioè da noi essendoci appunto in Inghilterra, in Francia, dove insomma hanno sviluppato altre tecniche e le balle di paia vengono usate come portanti, da noi vengono usate come tamponature perché hanno, oltre che dei costi contenuti, le balle in sé hanno un grosso potere isolante. Quindi è stata riscoperta negli ultimi anni, come ti dicevo Pantanella è stato pionieristico, già nel 2001 facemmo metri cubi su metri cubi di balle di paia. Adesso è stata, adesso si è diffusa, dati di circa un anno fa parlano di 630 edifici in Italia, perché prima non c'era praticamente niente fatti con balle di paia. Madonna. Quindi lo sviluppo è interessante, da noi un po' meno, ma solo noi ne abbiamo costruite 7-8, 3 anni in Umbria, oltre quelle fuori regione. Ma quali sono i vantaggi appunto di questi materiali, oltre alla sostenibilità? I vantaggi diciamo, c'è un vantaggio che io chiamo diretto, che in qualche modo incide sulla, su chi fa la casa. Il proprietario sceglie questi materiali normalmente per due fattori principali, salubrità e risparmio. Sul risparmio secondo me prende una cantonata, nel senso che facendo il muratore di questo mestiere, abbassare il prezzo non è la politica più geniale di quello che tu fai. Mentre le balle di paia sono un materiale di scarto e la terra è facilmente reperibile, la lavorazione di questi materiali è più complessa rispetto alle standardizzazioni. Tu prendi una cosa che non è stata costruita per l'edilizia e la adatti all'edilizia. Certo. In qualche modo questo processo c'ha un costo. Certo. No, che è l'artigiano, l'artigiano che ti trasforma quel rifiuto in un'altra roba, c'ha un costo, che recupera il risparmio che tu fai sul materiale, normalmente. E poi la questione che gli dico sempre io è che l'incidenza delle murature sul costo complessivo da una casa è molto bassa. Quindi anche se risparmi il 20% del 20%, alla fine dell'intervento il risparmio non è la cosa principale. La cosa è che nel tempo la muratura del balle di paia ha un buonissimo comportamento rispetto all'isolamento. E quindi il rapporto termico fra il costo e il beneficio, allora lì sali in classifica rispetto all'utilizzo di altri materiali. C'è poi un vantaggio che io definisco in diretto, e che è la sostenibilità. Una sostenibilità che è ambientale, chi vive dentro le case del paia sta meglio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che c'è una malattia che si chiama sindrome di edificio malato, che è comprensibile. Se tu metti tutti i materiali fortemente compromissori, la salute dell'ambiente dentro casa, certo che probabilmente tu non stai tanto bene. Invece i materiali naturali dentro che tu sei immerso, pensa alla terra, la terra non ha mai fatto male, neanche se la mangi. Quindi in qualche modo se tu la metti dentro casa e la terra è composta nella parte che ci interessa da argilla, l'argilla è fonoassorbente, è traspirante, è igroscopica, è usata nelle maschere in cosmesi, assorbe cattive. Totalmente naturale. E questo ti metti dentro casa sta roba. Normalmente, al di là di poi scientifico, stai già meglio. Quella l'ho messa in una parte un po' mistica, siccome sta bene lì, sta bene anche dentro casa. Non è così automatico. Quando tu un materiale lo sposti da dove stai, per come funziona, lo metti in un altro contesto, non è detto che funzionerà esattamente come funzionava prima. In questo caso però la chimica dell'argilla, la chimica degli inerti, che sono i componenti principali, la sabbia, diciamo, la terra non è mister, ci vuole la fisica quantistica appunto per interpretare il comportamento. Quello che fa, se sa come lo fa, si sa che il vantaggio su non è la resistenza. Se tu vuoi delle pareti che devi martellare con un martello pneumatico, probabilmente il cemento te dà più soddisfazione. Io dico sempre, probabilmente dentro casa, la funzione principale che a me serve è più quella di un regolatore naturale dell'umidità, piuttosto che di una cosa che resiste alle orde dei barbari che vengono col martello e picchiano dentro casa. Sì, ormai non è più quello il problema. Non credo. Dopo l'Ottocento. È possibile, come diciamo sempre, però non è quello. Quindi diciamo, questi materiali hanno questi vantaggi, in più, e questo capisco che chi costruisce una casa direttamente non se ne può fare carico, ma pensa alla demolizione di una casa in terra e poi a bassi costi energetici di demolizione, il materiale che cade in terra è perfettamente riciclabile, non è che c'è bisogno di chissà quale tipologia di smaltimento. Stiamo parlando di terra e paia, lo metti da una parte, fai l'orto, lo metti su un giardino, funziona. Certo. Questi sono i vantaggi in dubbi. Ma tra l'altro per legge non è... Cioè, in questo caso, come funziona la legge? In questo caso, cioè, tu c'hai per la prima volta dal decreto 81, diciamo, quindi quello che protegge le persone che lavorano in cantiere, a i decreti che in qualche modo regolano lo smaltimento. Con la terra e la paia siamo fuori da questa cosa, quindi non hai obbligo. Non hai obbligo, ma pensa a chi lo lavora con le mani. Cioè, siccome la terra, appunto, i bambini che giocano nel fango sono un classico della retorica che si costruisce attorno a queste esperienze un po' estreme, però è vero, è vero che non si fanno male, gioca con la calce, gioca col cemento a giocare con la terra, al posto della terra, nel senso che questi elementi di salubrità sono gli elementi principali, in più la funzionalità, quelle funzioni che ti dicevo che loro fanno, cioè, pensa che la paia, per esempio, è un buonissimo isolante, ma come materiale è relativamente leggero, per come siamo abituati a pensare le pareti noi, che sono in qualche modo massicci. Allora, questo ti fa perdere qualcosa dal punto di vista di quella che si chiama inerzia termica, cioè le pareti lavorano sul buon isolamento rispetto all'esterno, in due maniere. Una è l'isolamento classico termico, cioè metto un indumento molto pesante, molto efficace e quindi non sento il freddo è la differenza fra la calce, polistirolo, quindi materiale leggero, però il problema è che anche la pesantezza delle pareti svolge una funzione che si chiama inerzia termica, cioè per quanto fuori succedano tante cose, prima che dentro cambiano le condizioni, ci vuole perché io ho la pesantezza. La terra cruda aggiunge pesantezza alla leggerezza della paia, quindi il matrimonio fra i due materiali da questo punto di vista è ricco, insomma. Io ho un'ultima domanda che mi sto chiedendo già sin dall'inizio, come fai a trasformare la paglia e la terra e renderla, diciamo, rigida? Qual è il processo? Senza dirci i segreti. No, 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 la paglia, il processo noi lo recuperiamo dalle lavorazioni in agricoltura, la tecnica delle balle di paglia, diciamo che ci sono tantissime tecniche diversificate che mescolano i due materiali. Prendi i due materiali, li mescolo fra loro e la mescola le produce una gamma di varietà che possono essere interessanti proprio per differenti funzionalità. Ma la paglia a inizio, diciamo, fine ottocente è stata inventata la pressatrice, cioè quella cosa che riduceva il volume della paglia e le trasformava in una balletta. Ah, ok. Adesso è stata abbandonata, ma l'idea che la balletta di paglia possa essere il mattone della nostra casa è quella che è venuta a noi, uno famoso che ci ha fatto le casse a Wodigatry. Wodigatry andava in America, nell'America del Sud con il Belgio e costruiva le casse di paglia. Il secondo aspetto che non si sa della sua esistenza è che comunque diceva che è possibile, lui faceva un ragionamento un po' più pauperistico, cioè costruiscono le casse per i poveri con i materiali che ho, ma quell'elemento è rimasto chilometro zero. La terra invece, proprio perché c'è argilla dentro, l'argilla è plastica e quando tu la rimescoli con l'acqua, rindurisce. Arriva a livelli, ovviamente non del cemento, ma arriva a livelli interessanti per quello che è in abitato. Considera che noi ci chiamiamo terra e paglia perché è una delle tecniche che noi preferiamo, che è difficile usare perché è una tecnica particolarmente costosa, quindi uno va sulla muratura secco, valle e paglia, usa altre murature, ma mescola insieme la terra e la paglia e dalla mescolanza della terra e la paglia si ottiene anche lì varie tecniche, differenti nomi che hanno assunto nel corso del tempo queste tecniche, però si ottiene una muratura che ha grande qualità. Pantarei per esempio c'è, io cito spesso Pantarei perché lì c'è stata una grossa sperimentazione, però a distanza di 17 anni, che non è un secolo, ma sono 17 anni, tu vai e vedi e ancora la terra sulle pareti c'è. È un test probante? No, però... Certo, però 17 anni. 17 anni con ordine bambini, facevamo 10.000 visitatori l'anno nel 2004, quello che erano le gite dei bambini, per quanto il contesto fosse educativo e quindi tu li allertassi alla necessità di abitare non come dei vandali all'interno dell'albergo, ma in un posto particolare, comunque è stato sollecitato. Ad oggi le murature danno soddisfazione. Ultima domanda che mi sorge. Io con una casa così la posso fare su quanti piani? Ho dei limiti? No, perché tu considera che quello che conta è la struttura, come dicevamo prima, quindi la struttura è quella che ti dà il limite di altitudine. La paia in questi casi viene utilizzata come riempimento della struttura, quindi per qualunque struttura c'è un piano, poi c'è quello che chiamano solaio di interpia, cioè qualcosa che consente di partire col secondo piano, consente di partire col terzo piano e noi a qualunque piano stiamo riempiamo tutto con le balle di paia e la terra cruda. Ovviamente la domanda è comprensibile, quasi tutti vanno verso casa ad un piano e verso case che non privilegiano l'architettura a bilopo verticale. Chi sceglie la paia c'è anche un approccio un po' più sostenibile, più diffuso e sostenibile, però generalmente non c'è un limite funzionale, non è che tu dici questo materiale lì non si può usare. La questione che pongo io e la pongo sempre, in realtà la sta risolvendo in forme differenti da quello che penso io, ma la potenza che a me piace è l'idea che prendo praticamente la balla dal campo più vicino, Perugia è una città ma scendi già dei 5 km ci sono i campi di grano, quindi in teoria veramente c'è il chilometro zero. Cioè tu c'è un materiale a disposizione, a me piace l'ipotesi che utilizzo quel materiale così come esce dalla pressatrice in campo, non passa per un'industria che lo trasforma, poi consuma energia, poi me lo riporta. È un po' un sogno romantico, nel senso un po' non è che sia così attuabile, però è vero che il grano è coltivato in tutto il mondo. Cioè non c'è un problema di approvvigionamento della maglia e la paia è uno scarto della lavorazione del grano. Quindi questo è il classico upcycling, neanche un riciclaggio. Questo prendo una roba e la destino a una funzione superiore che io non mi aspettavo. Prendo una roba che è rifiuto. La terra cruda è uguale. Certo. Lo scavo di sottofondazione della casa che diventa poi l'intonaco. Vieni chilometro zero e recupero dei materiali di scarto. Sono l'etica dal punto di vista culturale. Sicuramente. Infatti abbiamo anche sforato, ma era molto interessante. Allora l'ultima cosa, i riferimenti, che sono un sito web dove trovare le informazioni. Terra e paia con la e in mezzo punto it. Dove lo mettete funziona. Instagram esce, Facebook esce Terra e paia. Dove mettete Terra e paia c'è anche il sito che non aggiorniamo con costanza, ma ve l'ho detto, noi facciamo i moratori. Moratori nobili. Nobili, però ecco, la questione è che poi alla fine, sto vicino alla betoniera, come dico sempre. Quindi diciamo che il sito mi sta un po' più lontano di solito durante la giornata. Ci credo, ci credo. Vabbè, lo chiedo solo perché faccio web marketing, quindi non è necessario. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Va bene, grazie mille, Sanni, è stato molto interessante. Spero anche per voi che avete seguito e alla prossima. comandata troppo colloquiale, no? comandata troppo colloquiale, no? Grazie a tutti.